Un cordiale saluto A tutti voi telespettatori Diamo inizio a questa nostra rassegna settimanale Di giornali della provincia di Belluno Con le nuove del Paese Giornale del Decanato di Livi d'Allongo La prima di copertina è dedicata al nuovo decano Il Fodom, l'ampezzano Don Andrea Costantini Al quale viene dato il benvenuto C'è la sua fotografia La sua storia di uomo e di sacerdote Ampezzano con Radici Fodome La nonna era di Fodome Parroco a Vigo Poi a Falcade A Comelico E infine a Cavarzano È entrato, ha iniziato il suo ministero Agli inizi di ottobre Prima insieme al parroco che ha ricevuto L'incarico per le parrocchie di Alleghe, Caprile e Santa Maria delle Grazie E poi un saluto particolare A Pieve di Livi d'Allongo La sua lettera è un saluto che inizia con il Grazie a Don Dario Il proposito di creare una relazione familiare Di amicizia e sincera affattiva collaborazione Nello spirito del Vangelo Solo nel Vangelo c'è il nostro futuro Chiede di aiutarlo ad essere sacerdote Possibilmente sempre gioioso Gioioso di essere prete Gioioso nelle sue relazioni Sostenersi a vicenda Schiettezza e sincera collaborazione E poi chiede, oltre che di pregare Ai suoi nuovi parochiani Di avere pazienza e comprensione C'è poi il saluto di Don Dario Che dopo nove anni Lascia in parrocchia di Fodon A Rabba e Pieve di Livi d'Allongo Qui la foto lo ritrae Quando iniziò il suo ministero Il 23 settembre del 2012 Alcune foto documentano il saluto Data dalla comunità religiosa e civile Ancora un saluto e un arrivederci Dio del Pai e Bentanda Da tutti i Fodon Il saluto della comunità E si sintetizza la sua caratteristica Serenità, capacità di sdrammatizzare E di rendere leggera la vita E gli si augura di continuare Il giornale presenta poi come sempre fa Le riflessioni domenicali Che il parroco Don Dario O le suore che vivono a Livi d'Allongo Presentano alla comunità Momenti di speranza Ricordo di una suora morta a 101 anni Poi viene dato conto dell'esperienza Del cammino dei giovani Insieme ad altri giovani Della diocesi di Belluno Feltre A Villa San Giuseppe È stata celebrata la festa di Santa Maria Maio la festa grande Il giorno dell'assunta Che coinvolge tutta la comunità Ecco qui è stata celebrata Anche alla Villa San Giuseppe Dove ci sono gli anziani Che ricordano gli anni passati Qui viene dato conto Di una tradizione mantenuta A Fodon Viene dato il conto della festa Di Santa Maria Maio E con il riconoscimento Adolfo Vallazza e Antonietta Crepas Viene spiegata la loro figura E' importante questo Per la comunità A Colle La notizia che è arrivato Il bambinello di Della Santa Che Don Gabriele Aveva proposto I suoi parrocchiani Poi aveva ordinato a Betlemme Che è arrivato Ripresenta il bambinello Che viene conservato E venerato Nella chiesa di Santa Caterina Di Betlemme La gioia di dare la vita Un libro che ricorda La figura di Don Gabriele Bernardi Per tanti anni anche parroco Longarone Lì è stato presentato Don Gabriele Che è mancato Il 31 maggio Dello scorso anno Vita parrocchiale L'estate dei ragazzi Quello che succede a Colle Viene dato conto Due nuove vigili del fuoco Sempre importanti Il restauro di antiche mura A Colle Santa Lucia Con i ragazzi della scuola Vile di Sedico Che lavorano Imparano questo tipo Di sistemazione La comunità in cammino Con l'anagrafe Le foto Conosciute o sconosciute Viene dato conto anche Di come veniva Celebrata la realtà Della morte Dal decesso del defunto La veglia della salma E i funerali Con le varie tradizioni Che vengono qui ricordate Presentato l'ultimo libro Di Paola Gabriele E poi una carellata Sull'impegno Delle associazioni Che vivono in Fodon Ecco Abbiamo visto Le nuove del paese Giornale del decanato Di Livina all'ongo Passiamo a Camminiamo insieme Giornale interparocchiale Di Cadola Col di Cugnan E Quantin Il parroco Don Giuseppe De Biasio Con la riflessione Voglia di ripresa Commenta anche La foto Dei bambini Della prima comunione Che dopo un periodo Di sospensione Dell'impegno Delle attività Finalmente hanno potuto Realizzare Una conclusione Almeno Momentanea Del loro cammino Ecco Le vicende Ricorda le vicende Dell'anno passato Ricorda Che siamo chiamati Di riprendere Con coraggio E speranza Richiama Il senso significativo Della messa Festiva In una pagina Intera Poi Viene dato conto Della carta D'intenti Consegnata Alle comunità Lo scorso 25 settembre L'inizio Del cammino Sinodale Della chiesa Di Belluno Feltre Con alcune Mette Che vengono Proposte E soprattutto Una collaborazione Sempre più Necessaria E indispensabile Tra le parrocchie Qui viene dato conto Di un nuovo E unico Consiglio Per gli affari Economici Che coinvolge Le tre parrocchie Il Papa Dedica un anno A San Giuseppe Dall'8 dicembre Scorso Al prossimo 8 dicembre Viene presentata Questa figura Attraverso un documento Altre volte L'abbiamo ricordato Dal titolo Patris Corde Con cuore di padre Questa figura Di Giuseppe Che si affianca A Gesù E alla Madonna Nelle loro Vicende Nel loro servizio E questa era La sua caratteristica Ecco E parla Di tante persone Che fanno Questa Vicinanza Con cuore Di padre Il gruppo Insieme Si può Di Quantin Presenta il suo bilancio Una iniziativa nuova Caritas Interparochiale Prende il via Il 18 prossimo Ottobre A Cadola Un centro Di ascolto Per Polper Ponte Nelle Alpi La zona di Cadola E dei Coi E anche dell'Alpago Un punto di riferimento Per servire Al meglio Le persone Bisognose Di ascolto E anche Di aiuto Ecco Questo centro Di ascolto Che poi Avrà una sua struttura Che in questo periodo Viene anche Divulgata E fatta conoscere Il giornale Passa poi A presentare Una delle caratteristiche Di questa zona Come del resto Tante altre Della nostra diocesi Che è quella Di celebrare In maniera originale E sempre significativa I patroni La ricorrenza Di santi patroni E ricorda Tutti quelli Che hanno Che sono stati Venerati In questo periodo San Giuseppe a Col San Marco ad Arsie San Pietro a Reveane San Tommaso a Roncans San Giacomo a Socchè San Lorenzo a Losego San Bartolomeo a Vic San Michele a Lastri Santi Angeli a Quentin E la Madonna del Rosario A Cadola Una carrellata Di patroni E di feste Che sono state Celebrate con intensità Viene riconosciuto Il prezioso servizio Dei custodi Delle chiese Che sono presenti Un po' In tutte le frazioni Con un servizio Che si tramanda Potremmo dire Di generazione In generazione Con intensità Impegno E anche Un apprezzamento Da parte Dei paesani Ecco poi Le varie Celebrazioni Con foto Che documentano I momenti Sia di festa Religiosa Che di festa Paesana Viene dato conto Della messa sul Dolada In onore Della Madonna Del Carmine Ecco da Belluno In alcuni momenti Si vede Una luce Verso la cima Del Dolada E la luce Che illumina La Madonna Del Carmine Posta in quel luogo Da abitanti Di Soccer San Giacomo Nonostante la pioggia Un percorso Un cammino Di San Giacomo Chiamato Cammino Della solidarietà Da 17 anni Si vive Questa esperienza L'ha vissuta Alcune decine Di persone Festa Del perdono Il santuario Del Nevegal Per i ragazzi Di Col e Quantin Prima comunione A Cadolo Come abbiamo detto La celebrazione Della Cresima Anche il battesimo Di un ragazzo La Cresima A Quantin Momenti Poi la documentazione Del Gresp E del campeggio Di Passo Cereda L'elenco Dei matrimoni Con alcune fotografie Che documentano E presentano Gli sposi Ai parochiani Una pagina interessante Anche Abbondante In questo caso Lì Anniversario Di matrimonio Di matrimonio Perantesimo Cinquantesimo Sessantesimo E sicuramente I paesani Vedono con piacere La foto Di chi Festeggia Queste ricorrenze Il gruppo Alpini Che ha rinnovato Nella sua Assemblea La Sessantesima Assemblea Eletto il nuovo Capogruppo Mario Dallanese E ha festeggiato Così anche La sua realtà Ricordi Della scuola Cantorum Una foto Del 1992 La prima Messa Al Nevegal Era stata Trovata Da Gianna Somavilla Coletti Che l'ha Messa Cortesemente A disposizione Gianna Coletti Che ha concluso La sua vita terrena Lo scorso 18 ottobre Ecco qui Due Due atleti Sara Mazzucco E Davide Follin Che si cimentano In gare Di corsa E chiude Il giornale La foto Dei bambini Battezzati Ultimamente Con i dati Dei genitori E Il loro luogo Di residenza Sicuramente Una carrellata Piacevole Per i parochiani Abbiamo visto Camminiamo insieme Il giornale interparochiale Di Cadolo Col di Cugnan E Quantin Passiamo Alla voce Di Lentiai Periodico parochiale In prima di copertina Una bella foto Di un bosco illuminato Di se sia la luce E la luce fu Il parroco Poi Don Luca Martorell Parla Sulla ripresa Della scuola E fa l'analisi Di una serie Di parole Che accompagnano La vita Delle persone Parole zanzare Le chiama Parole farfalle Parole pietre La scuola E la casa Della parola Che deve essere Sempre una educazione Usare la parola Come dice qui Parole come roccia Quelle su cui La casa sta solida Come dice il Vangelo Resiste alle interperie Ogni educatore Ha la responsabilità Di aiutare Gli educati A utilizzare Le parole giuste Non quelle Superficiali Zanzare O addirittura Farfalle Belle Ma forse Non sempre Consistenti Ecco Quindi questo Questo augurio Che il parroco Fa che la scuola Sia una formazione A utilizzare Le realtà positive Della vita Anniversario Di matrimonio Che sono stati Celebrati Il 24 di ottobre Le catechiste Si incontrano Per la loro Formazione Il giornale Annuncia poi Che la parrocchia Presenterà Ai parrocchiani Un calendario 20-22 Per aiutare A vivere Oltre che Ricordare i giorni A vivere Gli appuntamenti Della comunità Le pagine Del giornale Si dedicano Poi All'anagrafe Parrocchiale I battesimi E gli sposi Nel Signore E nella pace Del Signore Ecco Per gli sposi Per i battesimi Una bella Documentazione Fotografica Sicuramente I paesani Sfogliando Queste pagine Partecipano La gioia Di queste persone E si sentono In comunione Gli evangelisti Luca e Matteo Vengono presentati Per la formazione Biblica Dei lettori Consigli Di Papa Francesco Alle famiglie Viene ripresa Quella triplice Il triplice Invito A tre parole Che sono segno Di una sintonia Familiare Permesso Grazie E scusa Danni del tempo Alla chiesa Di Talandino E di Ronchena Volontarie Amassiai Per il monumento Ai caduti Come avviene Un po' In tutti i paesi Anche il Grest Ha avuto la sua Vitalità Dal 19 Al 30 Luglio La documentazione Fotografica Anche con Anche con Anche con Le legite Effettuate In questa Occasione Viene presentata L'attività Di Giovanni Schenardi Architetto Di interni Con la sua Storia Professionale E con la sua Attualità Viene poi data Memoria A una coppia Agli sposi Mancati 10 anni fa E il ricordo Della presenza Del Vescovo A Stabia E con grande Gioia Della comunità Di quel paese Ecco Continua Il ricordo Della maestra Maria Piccolotto Dal 1974 Missionaria Anche in Bolivia Mancata Il 28 Dicembre Del 2012 Ma sempre Presente Nel cuore Delle persone Viene dato conto Della sua storia La maestra Maria Con questo La voce Di Lentiai Periodico Parochiale Si chiude La nostra Rassegna Settimanale Di giornali Della provincia Di Belluno Auguriamo A tutti I telespettatori Buona continuazione Con i programmi Di Telebelluno Grazie a tutti Della